La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ex sindaco di Torraca Daniele Filizzola, confermando per lui la condanna in secondo grado ad un anno di reclusione per abuso d'ufficio. I fatti risalgono al 2009 e riguardano la revoca da parte dell'allora primo cittadino del piccolo comune affacciato sul Golfo di Policastro delle funzioni dirigenziali per l'ex responsabile delle aree di vigilanza, finanziaria, tributi, amministrativa e segreteria del comune Antonio Pompeo Abbadessa. L'atto venne immediatamente impugnato da Abbadessa, che si costituì in giudizio come parte offesa per violazione di legge e del regolamento, oltre che per danno economico derivante dal provvedimento assunto. Nel giugno del 2015 il Tribunale di Lago Negro condannò in primo grado Filizzola ad un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena, oltre all'interdizione temporanea dai pubblici uffici sempre per un anno. La sentenza venne appellata da Filizzola, ma la Corte di Appello di Potenza rigettò il suo ricorso confermando integralmente la sentenza di condanna in primo grado. Nuovo ricorso da parte dell'ex sindaco di Torraca. In Cassazione i difensori di Filizzola hanno motivato il provvedimento del proprio assistito come necessario e rispondente alle esigenze di contenimento della spesa della macchina comunale e dalla riorganizzazione degli uffici, escludendo qualsiasi intento punitivo. Ma la Suprema Corte ha riconosciuto la violazione delle norme regolamentari e disciplinari dell'ente comunale che andavano adottate prima dell'adozione del provvedimento stesso di revoca.